Salute guerriero, è la tua tenuta? Sì, sono Gothafrid Vestelinda, acclamato Drangr della grande armata pagana, guerriero scelto di Ragnar Lothbrok. Cerco uno scontro immacolato e onorevole in giorni sempre più vecchi e sporchi. Vorrei un certo decoro anche nella mia morte. Il tuo candore è notevole. I miei indumenti sono impeccabili, ben puliti e curati. Ragnar mi ha insegnato il decoro nel tempo trascorso insieme. Una coscienza pulita, un giuramento puro e una lealtà immacolata valgono ben più di qualsiasi armatura splendente. Un pensiero potente. Ora, vorresti soddisfarmi? Una battaglia pulita e onorevole è tutto ciò che chiedo. Che Odino assista alla nostra danza. Combattiamo. Prepara le tue vesti per un ultimo bagno di rosso. Il mio ferro è in condizione... ... ... ... ... ... ... Un colpo pulito, quale precisione? Le mie armi sono fallaci e impure. Ricorrerò a una lama più asettica, più pura. Ah, il mio sangue scorre risplendere! Ti ringrazio per quest'ultima danza di ferro sfavillante e colpi impeccabili. Che tu possa risplendere nella vittoria. Addio, onorevole Trengra. Faccio il viaggio, la parola presenzione. La parola presenzione è riuscata per costa freddo. Il di tutto il mondo del pesimo. Grazie a tutti.